Prima della prima lezione. Vediamo un po' quali sono le cose che dobbiamo osservare e capire prima di iniziare a suonare. Innanzitutto la prima cosa è come sistemare le mani, come appoggiarle sulla tastiera. Nello spartito che noi andiamo a suonare vediamo che sopra o sotto le note sono scritti dei numeri per la mano destra e per la mano sinistra. Questi numeri ci indicano il suggerimento per qual è il dito che deve suonare quella nota. Il libro ci suggerisce di suonare con la mano destra il do centrale usando il dito numero uno, cioè il pollice, di suonare il re usando il numero due, sempre della mano destra, cioè l'indice. Per la mano sinistra il do centrale sempre con il numero uno, il pollice, e il si con il numero due, cioè l'indice. Questo ci fa capire subito come dobbiamo appoggiare la mano sulla tastiera, quindi i nostri pollici saranno appoggiati sul do centrale. Il dito indice della destra sarà sul re e il dito indice della sinistra sarà sul si. In questa posizione, i pollici insieme e indice sinistro sul si, indice destro sul re. Le altre dita appoggiate tranquillamente sulle altre note. Ogni dito ha il suo tasto e ci serve anche sapere quanto deve durare il suono di ogni nota. Ci sono note più lunghe, più brevi, che durano più tempo o meno tempo. Noi riusciamo a capire questa differenza osservando come sono scritte le note, cioè se sono nere o se sono bianche. E nel caso in cui siano bianche, dobbiamo guardare se hanno una gamba oppure no. Le note nere ci dicono di contare un numero mentre noi stiamo suonando e poi vediamo come fare, ma ci indicano soltanto di suonare contando un numero. Le note bianche con la gamba ci indicano di suonare e contare, mentre suono questa nota, due numeri. La nota bianca senza gamba mi dice di suonare e contare fino a 4. Cosa vuol dire? Io devo prima di tutto guardare il numero che c'è scritto qua in alto. Ogni volta che iniziamo un brano, all'inizio del rigo musicale c'è una frazione. Il numero che sta di sotto, in questo caso, per adesso non importa, possiamo riparlarne in futuro. Il numero che sta di sopra invece, è vero che sono 2 e 4, sia sopra che sotto, ma ci capiterà in futuro di avere sopra anche il 3 oppure il 2 oppure altri numeri. Il numero che sta di sopra è in questo caso 4 e mi dice di contare continuamente, o ad alta voce, o nella mia testa, fino a 4. All'inizio posso contare a voce alta, poi quando avrò imparato, quando sarò più allenato, potrò anche contare semplicemente nella mia testa, in silenzio. Mentre io conto fino a 4, dovrò suonare la prima nota mentre conto 1, perché la mia nota mi prende, mi occupa soltanto il primo numero, deve contare un numero e quindi mi prende il numero 1. Conto 2 e suono la seconda nota. Conto 3, suono la terza nota. Conto 4 e suono la quarta nota, perché ognuna di queste note mi deve prendere un numero soltanto. Visto che le note sono 4 e io conto fino a 4, ogni nota va precisamente insieme a uno dei numeri che io sto contando. Arriva la stanghetta che mi dice che qui la battuta finisce e inizia la battuta successiva. Riprendo a contare fino a 4. Stavolta io ho soltanto due note in una battuta, ma perché la prima nota mi prende due dei miei quattro numeri e l'altra nota mi prende i due restanti. 1, 2, 3, 4. Nella battuta successiva, perché ogni volta che c'è una stanghetta, inizia una nuova battuta e io ricomincio a contare da 1 a 4. Nella terza battuta conto esattamente come ho contato nella prima. Nella quarta battuta io trovo una nota bianca senza la gamba che mi fa contare fino a 4 tenendo premuto il tasto della sua nota, del suo suono. Quindi, per riassumere, io conto sempre fino a 4 e a seconda di come sono scritte le note ogni nota durerà di più o di meno, perché nella prima battuta dove io ho 4 note, una nota per ogni numero, il risultato sarà questo. 1, 2, 3, 4. 2 note, 3, 4 note abbastanza brevi, perché ognuna occupa soltanto il tempo di un numero. Nella seconda battuta ho due note, ora le suono entrambe con la mano destra, per fare semplicemente un esempio. I due do prendono ciascuno due numeri. 1, 2, 3, 4. Io tengo premuto il tasto, perché se io alzo il dito e lascio andare il tasto, il suono si interrompe, quindi non ho tenuto il suono fino a 2. Nella quarta battuta il mio do deve farmi contare fino a 4. 1, 2, 3, 4. Io inizio a contare nel momento preciso in cui abbasso il tasto e lo lascio quando ho finito di contare l'ultimo numero. 1, 2, 3, 4. Non è subito così facile mettere in pratica tutto questo, ma abbiamo bisogno semplicemente di un po' di pazienza. Provare a allenarci senza preoccuparci se qualche volta sbagliamo qualcosa è assolutamente normale. Fare qualche piccolo errore fa parte del gioco, ma sbagliando impariamo a migliorare.